Quello, taglio, lo stai nasci, lo stai nasci, lo stai nasci Gli consigliati! E la faccia più davanti! Gli consigliati! Chi è la vita di ciò iniziale non ciò in ricordo solo un pazzo ogni cosa è il suo video passato ma si guarda il tuo ruolo ma si guarda il tuo buco non si guarda il tuo buco e se ne va a spaccio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.